è stato per noi sicuramente un gran piacere poter esprimere tutti i valori delle brand e poterlo fare direttamente proprio sull'unici tecniche tutto il culto focale di questo brand è stato interessante per noi quando ci è stato proprio proposto di realizzare il poster che raccontasse tutta l'ocean race ci siamo detti che volevamo adottare lo stesso approccio stilistico della creazione del 11 e quindi per questo poster in particolare è stata una sorta di sfida per noi perché linea unica andare a racchiudere tutte le tappe tutte le città dell'ocean race io sono veramente una grande emozione perché è sempre bello il nostro lavoro che comunque il risultato finale noi lo vediamo sempre sullo schermo sempre in digitale sempre in digitale l'effetto è bellissimo e anche soprattutto la resa dei colori molto accesi molto fedeli a quello che pensa un momento ciao ragazze come state prima volta in barca e se vogliamo andare dentro questo è un po' la nostra la nostra casa perché passiamo la maggior parte del tempo ovviamente la banca come vedete qua è abbastanza chiusa non c'è molto comfort ed è mai una di margalina no però devi già vederci guarda vedo il massimo del messaggio esatto non c'è altro se non ci lasciate una persona assolutamente a mia parte per svegliare la baniera ci ha fatto compagnia con un sacco in india questo è un po' di ricordo frazzi grazie grazie grazie